Nella notte tra venerdì e sabato un intenso fronte atlantico con un forte afflusso di correnti sciroccali interesserà la regione per cui prevediamo piogge intense soprattutto sulla fascia prealpina fino a quasi 2000 metri di quota per quanto riguarda la fase notturna. La quota neve sempre nella notte sarà oltre i 1500 metri sulle zone alpine probabilmente a quote più basse verso il cadore più alta invece come già detto intorno ai 2000 metri sulle prealpi piogge intense anche in pianura venti forti in quota da sud e anche sulla costa dove si avranno mareggiate fino a sabato mattina. Sabato mattina avremo ancora piogge intense sulle zone orientali invece comincerà a ridursi la pioggia su quella occidentale sulla zona occidentale nel pomeriggio sera ulteriori piogge ad est forse anche temporalesche migliora invece ad ovest temperature massime intorno ai 13 14 gradi su pianura e costa. Per la giornata di domenica un relativo miglioramento anche se rimarrà un tempo incerto con nuvolosità variabile possibilità di qualche locale pioggia o di qualche spruzzata di neve in montagna però in un contesto in generale miglioramento rispetto al giorno precedente. Temperature massime intorno ai 12 gradi su pianura e costa dall'inizio della prossima settimana il tempo diventerà più bello e stabile e probabilmente il miglioramento sarà a duratura. Dall'osservatorio meteo regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.